Aveva deciso di lasciare per sempre il rugby, la sua più grande passione, dopo una vicenda che lo aveva segnalato profondamente nel fisico e nello spirito. Aristide Barraud, talento della palla ovale, vincitore delle 6 nazioni under 20 con la nazionale francese e uomo in più dei Lions nella stagione 2013-2014, si trovava in coda assieme alla sorella davanti al ristorante Petit Cambodge di Parigi, quella maledetta sera del 13 novembre 2015, quando il terrore globale fece irruzione sconvolgendo una nazione e il mondo intero. Un uomo armato scese infatti da un'auto e aprì il fuoco, ferendo il talentuoso regbista al polmone e al piede. Il mondo sportivo si strinse attorno a lui, che caricato dalle manifestazioni di affetto, bruciò le tappe per tornare a giocare, un'impresa che però non gli riuscì, dato che la lesione al tenine d'Achille era troppo seria per poter sperare di rimettere piede su di un campo. Ecco allora la dolorosa scelta, taglio netto con il rugby e addio a una promettente carriera che fino ad allora era stata ricca di successi. Qualche giorno fa però, ecco la svolta. A San Rocco, dove gli è stato consegnato il premio internazionale assegnato dal Panatron Piacenza Primogenita, Barò ha annunciato il ritorno, ma non da giocatore. Un grande amico, oltre che il regbista, gli ha fatto scattare nuovamente la scintilla e a maggio Barò partirà per il Burkina Faso, dove sarà assistente del commissario tecnico per il settore tre quarti, il giusto epilogo, o forse il giusto inizio, di una bellissima storia di rinascita sportiva e di vita.